Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Mariolina Sattanino, giornalista. Buonasera Massimo Cacciari, filosofo. Buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora avete visto, c'è stato un Draghi che è intervenuto a sorpresa all'ultimo momento per chiarire il pasticcio AstraZeneca. Ha fatto un po' mea culpa, ha detto che sì, c'è stata confusione, in futuro sono disposti sempre a chiarire tutto, anche per assicurare naturalmente la popolazione e che comunque si può stare tranquilli. Non ci sono rallentamenti sulla campagna vaccinale, non ci sono rischi sul mix vaccinale, tant'è che lo stesso Presidente del Consiglio lo farà martedì. E poi tante altre cose che adesso commenteremo subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Mariolina Sattanino, allora nessuno si aspettava che Draghi parlasse questa sera, l'abbiamo saputo all'ultimo momento, ha fatto un punto stampa e in un quarto d'ora, 20 minuti, ha chiarito tutto sul pasticcio AstraZeneca. Abbiamo visto un Presidente del Consiglio, questo bisogna dirlo, forse anche un po' nervoso, ma molto perentorio, molto determinato, molto chiaro. Secco e chiaro, è vero, ma bisogna però, è vero, ha detto c'è stata confusione, ma è un po' come l'insegnante che rientra in aula e trova un po' di confusione fra gli studenti. Lui è stato fuori per gli impegni internazionali che sappiamo e io credo che la sua leggera irritazione sia dovuta a tutto il chiasso, a tutta la confusione, a tutti i pareri contrastanti che ci sono stati. Effettivamente c'era la necessità di fare chiarezza, di mettere un punto a tutte queste polemiche, però Draghi ha anche reso grande merito al popolo italiano. Ha detto che siamo stati straordinari, che abbiamo avuto uno dei comportamenti più ammirevoli che si siano potuti vedere, quindi la confusione e l'irritazione che abbiamo tutti quanti percepito verso chi era? Verso i virologi, i partiti che compongono la sua maggioranza, l'informazione che predilige i casi limite e che non ricorda che per esempio che non c'è vaccino, che non abbia delle controindicazioni, la confusione dell'AIFA, la confusione dell'EMA che dice non si sa se l'eterologa va bene, l'AIFA che dice che invece va bene. Lui ha ammesso un po', anche con coraggio devo dire, con un certo coraggio perché lui poi non è uno scienziato. Certo, però ha detto poche ma chiare parole Andrea Scanzi, il Presidente del Consiglio e quando Mariolina Sattanino fa questo esempio del preside che fa ordine nelle aule, tutto è un po' così, dove ognuno va un po' per conto suo, vicino oggi, durante questa piccola conferenza stampa, aveva il Commissario Fidiolo, il Ministro Speranza, però evidentemente non era nervoso con loro. Con chi era nervoso? Ma non lo so se non era per niente nervoso anche nei confronti di Fidiolo e di Speranza, perché quella che lui, che Draghi ha chiamato con un certo amore per l'eufemismo, confusione, l'hanno provocata anche Fidiolo e Speranza, quindi se non ce l'ha per niente con Fidiolo e Speranza, secondo me non è lucido e invece secondo me Draghi è molto lucido. Io credo che Draghi abbia fatto bene a parlare, con un certo ritardo, perché se l'avesse fatto qualche giorno fa sarebbe stato anche meglio. Io credo sia stato costretto a farlo, perché c'è un Paese abbastanza preoccupato per usare un altro eufemismo. Ha fatto bene a fare i complimenti agli italiani, perché nonostante il terrore che ci sta cadendo addosso, la campagna vaccinale tutto sommato va avanti. Ha fatto anche bene ad ammettere degli errori che sono stati fatti, errori che sono stati fatti dalla Regione, dal Governo, da Fidiolo, da tutti o da molti. I due aspetti che io trovo molto importanti nei prossimi giorni, secondo me, sono da una parte rassicurare molto gli italiani su questo concetto della vaccinazione eterologa, perché fa a tutti piacere che Draghi lo farà martedì prossimo. Draghi peraltro non sarebbe neanche tenuto fino in fondo a farlo per chi ha più di 60 anni. Diciamo che il problema è più per gli under 60 che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca. Ma non c'è questa grande serenità nella comunità scientifica. Si dice che forse va meglio la vaccinazione eterologa, ma i dati sono pochi. Quindi tutta questa grande serenità sul mix di vaccini, beh, convinceteci, perché io mi metto nei panni di quelli che ancora devono fare la seconda dose, non credo che lo facciano proprio così con serenità. L'altro aspetto che io trovo importante nei prossimi giorni, e secondo me Draghi lo ha detto a Fidiolo... Però scusami Andrea, Draghi ha detto anche una cosa molto importante, ha detto che chi è stato vaccinato con AstraZeneca prima dose e preferisce fare la seconda dose, quindi il richiamo con AstraZeneca e non con Pfizer o Moderna, lo può fare, libero di scegliere. Ha fatto bene, anche specificato con l'accordo del medico, anche se ha specificato noi preferiamo la vaccinazione eterologa. Ecco, su quel preferire che io ho qualche perplessità, ma da profano e ascoltando alcuni virologi come Crisanti. L'altro aspetto che riguarda Fidiolo, secondo me Draghi glielo ha detto, controllare un po' l'annuncite, Dilli, perché Fidiolo se parla ogni giorno o ogni settimana alzando l'asticella e dicendoci domani 500 mila, dopo domani 600 mila, fra tre giorni un milione di dosi al giorno, e poi non lo raggiungi, o se lo raggiungi in qualche modo fai questi vaccine day che sono stati un po' un autogol, beh non funziona. E io credo appunto che Draghi fosse nervoso un po' anche con Fidiolo, non solo, ma anche con Fidiolo. Massimo Cacciari, secondo lei con questo intervento del Presidente del Consiglio è tutto chiarito sulla confusione sul vaccino AstraZeneca, ma non solo. Com'è messo un punto fermo Draghi e possiamo considerare il caso chiuso? Parlerà a nome di qualche troupe scientifica, non mi risulta che Draghi sia un virologo, quindi se sarà informato gli avranno detto che il Dio è quello che ha detto, cos'è un virologo, cos'è un epidemologo. Quindi le strutture scientifiche dei ministeri, eccetera, gli avevano detto che va tutto bene. Cosa ne posso sapere io? Professor Cacciari, però diciamo Draghi è stato spesso accusato in questi mesi di non, come si suol dire, metterci la faccia, cioè di intervenire troppo poco per chiarire alcuni punti fondamentali. Ma perché? Ma scusi un momento, ma cosa vuol dire? Draghi ci ha messo la faccia e come? Ha cambiato il responsabile, ne ha messo un altro, lui, più mettersi la faccia di così, dopodiché sono successe ulteriori confusioni, come sempre in questo Paese poi si ammette quando va bene, si ammette sì c'è stata confusione, va bene, avanti. Confusione c'è stata, perché mi pare che la procedura razionale sarebbe stata quella di puntare tutto decisamente nel più breve tempo possibile a mettere al sicuro la popolazione a rischio, i fragili cosiddetti, questo era l'obiettivo prioritario, una regione l'ha fatta, l'altra no, uno ha fatto gli open day, quell'altro no. Cioè, confusione c'è stata e come? La solita. Dopodiché si viene fuori il Presidente del Consiglio che dice che c'è stata confusione, gli italiani sono stati bravi, sempre con questa retorica insostenibile, insopportabile, di cui, francamente, non ne posso più. Ma questa retorica... Obiettivamente, però, non c'è stato il panico su AstraZeneca, non c'è stato il fuggi-fuggi davanti agli hub vaccinali. Ma perché dovrebbe... ma perché siamo scemi? Ma perché siamo scemi? Tutte le volte che gli italiani non si comportano da idioti, siamo bravi? Ma che discorso è? Ma che panico ci doveva essere, scusi? Ma che panico ci... ma dove c'è stato il panico? Ma dove c'è stato il panico? Ma dove c'è stato il panico? Ma dove? Ma neanche in Brasile, ma neanche in India. Ci sono tanti paesi in cui la percentuale di no-vax è molto più alta che da noi in Italia e dove i comportamenti non sono sempre stati così ligine anche nell'osservare le regole, le restrizioni. Senta, Professor Cacciari, è riuscito a raggiungerci adesso? Adesso voleva un esperto e io gliel'ho portato perché ci raggiunge adesso Sergio Abrignani che è immunologo e immunologo dell'Università Statale di Milano e membro, soprattutto membro del Comitato Tecnico Scientifico. Buonasera, Professore. Salve, buonasera. Ma siete stati voi a consigliare a Draghi di intervenire stasera e di dire quello che ha detto? Ma no, ma si figuri, se Draghi ha bisogno del nostro suggerimento. Ma come? Certo che ha bisogno... Mi scusi, Professore Abrignani... Ma no, ma quello di Draghi è stato un intervento... Se Draghi fa un intervento su Aristotele chiederà le parere di qualcuno che ci intende di Aristotele, no? Allora, se la domanda è... Perché aveva chiesto il vostro parere e voglio sperare. Voglio sperare che abbia chiesto il parere di chi si intende e voglio sperare. Ma la domanda che io ho capito era un'altra. Siamo suggerito di fare la conferenza stampa, ovviamente no. A noi ha chiesto dei pareri e l'ha anche detto. Ah, no, che discorso, evidente. Infatti, è una battuta perché abbiamo capito così la domanda. Se la mostri noi a dire... Cioè, vada in pubblico a parlare. È chiaro, ma anche lui l'ha detto stasera. Ci ha posto dei quesiti e gli abbiamo dato i suggerimenti. Il via libera ha la seconda dose per chi ha fatto la prima con AstraZeneca in libertà. L'avete dato voi questo consiglio? Noi abbiamo sempre dato un suggerimento di raccomandazione. Se lei va a leggere il nostro verbale, che è pubblico, perché è stato legato anche alle circolari del Ministero della Salute, lì c'è scritto esattamente ciò che noi abbiamo raccomandato alle autorità sanitarie. Lì c'è scritto che non possono più farlo quelli che non possono fare a AstraZeneca. Era una forte raccomandazione per principio in massima cautela, per cercare di evitare da uno a tre trombosi su quel milione di soggetti al di sotto dei 60 anni, che facendo una seconda volta un vaccino a AstraZeneca, sulla base dei dati da Gran Bretagna, uno su 600.000, uno su 500.000 fanno una trombosi trombocitopenica. Per evitare questo abbiamo consigliato di usare un altro vaccino, che è molto più sicuro da questo punto di vista. E qui lo farà tra l'altro, ricordavamo, lo farà anche lo stesso Draghi. Non è quello che ha detto Draghi. Cacciari? Ma Draghi mi sembra che abbia detto, quello che ho capito, perché veramente non puoi... Ma mi sembra che non abbia detto questo, che non abbia posto questa cautela che ha detto adesso il professore. Mi pare che abbia detto che si può andare tranquillamente a fare il vaccino che si era già fatto a AstraZeneca e basta. No, 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 ha detto tranquillamente. Ha detto che c'è libertà di scelta previo il parere del proprio medico. Parere medico. Allora... Il parere medico è fondamentale, non è un dettaglio da poco. Referendo la vaccinazione terrola. Ma quindi ogni italiano... Scusi, 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 professore. Allora ogni italiano che viene ad andare a fare il vaccino deve farsi un consulto col suo medico di base. Sì. E consigliamo di questo. Se lei può andare a fare con l'eterolo, lei può fare... Ma allora non ho capito cosa ha detto, scusi. Lei va al centro vaccinale e le viene fatto. Ha appena detto che occorre un parere medico per fare AstraZeneca. Una volta... Se lei vuole... Allora. La raccomandazione per cui lei va al centro vaccinale e le viene fatta la seconda dose, se l'ha fatto AstraZeneca e a meno di 60 anni ha ricevuto la prima dose e le viene fatto il vaccino RNA o moderno Pfizer. Se lei volesse fare un altro tipo di vaccino, che è quello che ha fatto prima AstraZeneca, che noi sconsigliamo per i motivi indicati nella nostra relazione, lo può fare. Però a questo punto, siccome abbiamo fatto un warning, si può fare un ammonimento, un avvertimento... Il parere medico. Il parere medico. Il parere medico. Va bene. Ma non è quello che ha detto Draghi? Ma non è quello che ha detto Draghi? Sì, che ha detto così. Draghi ha detto... No, non è quello che ha detto Draghi. No, perché Draghi ha detto che si può andare tranquillamente a farsi AstraZeneca di nuovo. No. Allora... Non si può fare così. Però il medico le deve dire che lei non ha... Sì, è così. Sono tanti rischi che complicano... Allora, no, però abbiamo... Credo che abbiamo chiarito su questo punto. Andrea Scanzi, cosa ti... Perché eri perplesso? Non abbiamo chiarito niente. Non abbiamo chiarito niente, come dice Cagliari. Non abbiamo chiarito niente. No, semplicemente stavano dicendo una cosa simile ma differivano su un concetto. Cerco di riassumerlo perché penso di averlo sentito bene Draghi. Draghi ha detto... Io sono scritto. La seconda dose per chi ha fatto AstraZeneca alla prima e a meno di 60 anni è consigliato caldamente la vaccinazione eterologa. Cioè fate Pfizer e Moderna. Quindi se non dite niente noi vi facciamo Pfizer o Moderna. Qualora però, in maniera del tutto legittima, una persona sotto i 60 anni ha paura perché dice io non mi voglio mischiare i vaccini, a quel punto deve avere il parere favorevole del proprio medio che gli dice sì, a quel punto lo puoi fare. Cioè sostanzialmente ti assume la responsabilità. Parliamoci chiaro. In maniera tale che tu ti dici io rischio perché preferisco e se ti va male poi la colperatura. Ma io spero che capiate... E' quello che ho detto. Ma io spero che vivendo nello stesso mondo in cui vivo io, spero che capiate le complicazioni che questo comporta se bisogna andare in cerca del parere del proprio medico di base. E' certo. E' quello che lo capiate. Ma forse viviamo in mondi diversi, non so. Mariolina Satannino. Io penso che un Whatsapp al proprio medico di base dicendo che cosa faccio, mi faccio l'eterologa oppure io preferirei fare la seconda, non crei tutto questo problema, no? Sì, sì, certo, certo. Anche perché si parla di persone under 60, no? Soprattutto sono quelli che sono considerati più a rischio. Ma cosa la preoccupa Cacciari? Non ho capito bene. Ma niente, ma niente. Non mi preoccupa niente. E' evidente che una campagna vaccinale è nata in un certo modo, con tutte le confusioni del mondo. Adesso si completerà e speriamo finalmente di uscire da questa sciagura e cominciare a ragionare su come ricostruire il paese. Finalmente. Forse finalmente a un certo momento cesseremo. Quando saremo tutti vaccinati, no? Finalmente cominceremo a ragionare di come risanare questo paese, insomma. Ma è vaccinato lei, professore? Sì, perché è chiaro che dobbiamo essere vaccinati per poter fare una ricostruzione. Questi sono fatti miei. Questi sono fatti miei. Ah no, non pensavo di entrare troppo nell'intimo. No, basta, 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 basta. No, no, basta. Allora. Parliamo di altro. Professore Abrignani, siccome è stato chiesto poco fa nel punto stampa Draghi se verrà tolto l'obbligo delle mascherine all'aperto, Draghi ha detto che chiederà domani a voi, a voi del Comitato Tecnico Scientifico, un consiglio. Che cosa gli consiglierete? Non lo so, dobbiamo ancora discuterne. Il mio parere è personale, ma non quello che decideremo. E lei cosa pensa? Che secondo me, visto che in Europa la Francia lo farà il primo luglio, la Germania, alcuni lender lo fanno da fine giugno. Siccome quello che ho notato è che l'Europa si muove abbastanza i paesi in sintonia, giusto per dire una cosa, la stessa cosa che abbiamo deciso noi sul mix eterologo di vaccini, è stata decisa anche dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, quindi immagino che ci allineeremo non so quando, comunque su questo ascolto gli esperti di igiene e sanità pubblica, sono esperti del tenere o non tenere mascherine all'aperto, che devo ammettere non è la mia competenza. Io sono un immunologo, mi interesso i vaccini, è disposto immunitario, mix di vaccini, ma non di spazi di sicurezza. Quindi su questo ascolterò i miei colleghi del CTS che sono esperti su questo, esperti di sanità pubblica e di igiene. Comunque quello che immagino è come un'Europa. E come immunologo il Green Pass anche contro la variante indiana è abbastanza tranquillizzante, possiamo stare abbastanza tranquilli? Quello che sappiamo è che la vaccinazione con due dosi dei vaccini oggi disponibili protegge con i migliori vaccini circa l'80%, il 79%, in realtà contro il 90%, quindi c'è un calo. Per quanto riguarda la protezione della malattia media o moderata, dalla malattia grave sembra che siano abbastanza protetti, tant'è che in Inghilterra hanno un aumento di casi, essenzialmente tra i non vaccinati, ma anche tra una quota di vaccinati con malattia lieve, ma pochissimi morti e malattie gravi, infatti non hanno un eccesso di ricoveri. Ma il Green Pass si dà anche con una sola vaccinazione, quando si sa che contro la variante indiana per esempio una dose sola non basta. Questo è un buonissimo punto che infatti stiamo discutendo, perché quello che le dice è stato riportato circa otto giorni fa, il Green Pass è stato discusso due mesi fa, stiamo navigando un mare che non conosciamo, quindi se comparo una variante, fino a 15 giorni fa, chiunque lei avesse chiesto sulle dosi, sapevamo che tutte le varianti che circolavano con una dose si proteggeva dal 70% e con due dosi al 90% con i migliori vaccini. Dieci giorni fa abbiamo scoperto che con l'Indiana, con la Delta scusate, non è così, e quindi ora sono sicuro che ci sarà una revisione di questo. Grazie, grazie. Ma è qualcosa che sta avvenendo, che sta avvenendo in questo momento. Perché questo è sempre quello che cerchiamo ogni tanto di ricordare, che qui ci muoviamo in una terra, diciamo, un incognito, navighiamo un pochino a vista. Grazie professor Abrignani, grazie di essere stato con noi. Io volevo far notare che per strada già moltissimi non portano la mascherina e non c'è alcun controllo e questo è francamente irritante, perché è verissimo che la mascherina dà molto fastidio, fa caldo, se si cammina per strada da soli senza essere vicini a qualcuno è irritante e inutile doverla portare, però ci sono anche assembramenti per strada in cui sarebbe bene che le persone si regolassero anche un pochino in base alla loro coscienza e al loro razziocinio. E questo è quello che un po' invoca e dice il professor Cacciari, no? Quindi, finché le mascherine si devono portare per strada, vanno portate e se ci sono polizia, carabinieri, vigili urbani che vedono gente che non le porta, soprattutto i pochi turisti che stanno tornando, bisogna farglielo notare. Quando invece saremo liberi e speriamo di esserlo presto, starà a noi anche a stare un pochino più attenti, penso. Però, professor Cacciari, lei ha scritto che siamo di fronte a un controllismo demenziale, siamo di fronte a un controllismo demenziale o non si può fare altrimenti in una situazione come questa. Ma è evidente che dove c'è assembramento bisogna tenere una mascherina, dove sei con delle persone che non conosci, vicine, è bene tenere la mascherina. A parte il fatto che io la mascherina la terrò tutta la vita, perché è stato il primo inverno che ho passato senza la minima influenza, grazie al minimo mascherino, grazie alla mascherina. Io anche io, anche noi. Quindi credo che sia una cosa utilissima tenere la mascherina sempre, va benissimo tenere la mascherina anche sempre, ma è chiaro che tenere la mascherina per strada dove non c'è nessuno è demenziale, ma è chiaro che tenere la mascherina in piedi e nello stesso bar di vicino seduti invece senza la mascherina è demenziale. Questo è logicamente inoppugnabile, è una cosa demenziale, che in piedi tu debba avere la mascherina e seduto nello stesso posto è puramente demenziale, dopo gli chiedite quello che volete, ma rimane un fatto demenziale. Senta, Professor Cacciari, Draghi oggi, perché ricordava prima Mariolina Satannino che il Presidente del Consiglio ha avuto una settimana molto intensa sul fronte europeo e internazionale, tra il G7 e oggi è stato a Madrid. Cosette serie, sì. Sì, molto. E tra le altre cose oggi ha detto abbiamo dato la democrazia per scontata e ignorato il rischio del populismo. Allora, secondo lei c'è il rischio che con la fine del governo Draghi il populismo torni più forte? Beh, intanto bisogna capire chi avrebbe ignorato il rischio del populismo, perché nel suo minimo, nel suo ultraminimo, persone come il sottoscritto lo denunciano da diciamo 30 anni, 40. Quindi, chi ha ignorato il rischio del populismo? Draghi forse, non lo so, il sottoscritto non è di sicuro. Intanto comincia a dire chi ha ignorato questo rischio, che invece qualcuno continua a denunciare puntualmente. Il rischio del populismo si è espresso con lo sbaraccamento dei partiti politici, con le mancate riforme costituzionali. Il populismo non ha padre e madre il populismo, ha una genesi il populismo in Italia e in Europa, che significa gli errori delle classi dirigenti, che significano lo sconquasso delle socialdemocrazie e dei compromessi storici e delle grandi coalizioni. Insomma, voglio dire, certo, è un grande rischio per le democrazie, certo, ma ci svegliamo oggi a capire che la democrazia rappresentativa uscita dalla seconda guerra mondiale è in una crisi radicale? Ci svegliamo oggi, lo capiamo oggi? Ma lei si aspetta un ritorno più forte di prima del populismo finito il governo Draghi? No, io mi auguro di no, perché ci sono le possibilità per combattere questo pericolo e queste possibilità sono chiare, sono essenzialmente per quanto riguarda il nostro paese, senza fare adesso discorsi planetari o continentari, per il nostro paese io ritengo che l'unica strada che abbiamo per sconfiggerlo, sia finalmente creare un'intesa, ma fondata strategicamente, in base a dei congressi che devono svolgersi secondo criteri razionali, cioè su tesi e programmi che possano confrontarsi, che siano razionali e responsabili, tra Partito Democratico e 5 Stelle. Ecco, allora la fermo... Molto realisticamente e concretamente, non vedo... La fermo un attimo perché su questo voglio... Non vedo alternativa a questo. Voglio sentire Andrea Scanzi perché è in arrivo Grillo, Grillo è a Roma, lui pare che voglia mettere dei paletti a Conte perché forse c'è qualcosa che non lo convince o non gli piace del progetto di rilancio di Conte del Movimento 5 Stelle, che cosa sta succedendo? E diciamo, ha ragione Cacciari quando dice che, insomma, c'è questa alleanza antipopulismo PD-5 Stelle che deve essere un'argine. Questa è intesa, alleanza. Ma allora, questa auspicata intesa, diciamo che se ne parla da almeno otto anni, spesso prendendo dei fischi e degli insulti, parlo anche a titolo personale, ma pure Cacciari e pure altri, quindi diciamo che io sono tra quelli che crede che un'alleanza organica è sentita, creduta da dentro, tanto dal PD quanto dai 5 Stelle quanto dalla cosiddetta sinistra radicale, possa arginare in maniera convincente il centro-destra, però bisogna che ci credano. Ti rispondo alla domanda Grillo-Conte. Io non credo che Grillo scenderà a Roma arrabbiatissimo nei confronti di Conte dicendo voglio essere il garante come prima, altrimenti tu ti prendi il partito. Secondo me Grillo ha sempre meno voglia di fare politica, secondo me Grillo ha sempre meno il Movimento 5 Stelle in testa. Questo lo diciamo per ogni volta che Grillo fa qualche passo indietro per la verità, però vedremo. Sì, diciamo che in questi mesi gli è successo qualcosa anche a titolo privato che è abbastanza grosso, prima non c'era. Io credo che il primo a volere un Movimento 5 Stelle targato pressoché esclusivamente Conte è stato Grillo, quando mesi fa a domanda diretta di Conte, guarda che io accetto soltanto se mi date pieni poteri, la semplifico, Grillo ha detto sì, vai tranquillo. Quindi secondo me Grillo va da Conte per casomai rafforzare Conte, per calmare quelli che hanno paura che non ci sarà il terzo mandato e che dopo due mandati finisca tutto, dopodiché il problema di Conte che secondo me in testa ha già la sua idea di Movimento 5 Stelle, molto moderato, forse pure troppo per i vecchi elettori e per i vecchi anche eletti del Movimento 5 Stelle, ma ce l'ha l'idea, lui sarà il leader con una mini segreteria di due o tre nomi, i nomi saranno Chiara Appendino, forse ci sarà Luigi Di Maio, forse ci sarà Turco che era il sottosegretario a Conte 2, che è un senatore molto vicino a Conte, dopodiché il problema del Movimento 5 Stelle è lo stesso problema del Partito Democratico, a questa alleanza ci volete credere oppure no? Io non l'ho capito, Conte ci crede, ma tanti dentro i 5 Stelle no, se guardo il Partito Democratico vedo alcuni che ci credono, ma a Torino il Partito Democratico che è più renziano che elettiano sta bombardando anzitutto i 5 Stelle, a Bologna dove c'è un accordo più o meno di massima sull'epore ci sono tanti che stanno cadoneggiando i 5 Stelle, quindi il problema dei 5 Stelle sono tanti, se essere moderati, se essere talebani, ma c'è alla base di tutto il problema fondante che è, questa alleanza piace soltanto a Cacciari, a Scanzi e altri 3-4 Bischeri oppure piace veramente a Conte, a Berzani e a Grillo, io non l'ho capito e questo mi sembra un problema fondamentale perché gli altri, e mi fermo, gli altri, la destra, van dritti, possono litigare o fingere di litigare, ma il centro-destra sarà compatto alle prossime elezioni, i 5 Stelle e il PD non lo so. Sei d'accordo Mariolina Satannino? Cacciari prima sommessamente ha detto alleanza tra PD e 5 Stelle, sembrava una parola grossa perché in effetti c'è ancora un lungo percorso da fare, ma i 5 Stelle possono essere un argine ai populismi visto che loro fieramente si sono dichiarati anche un movimento populista, no? Beh, anzitutto ricordiamo che cos'è in radice nell'accezione negativa il populismo, l'incapacità di spiegare ai cittadini la complessità del governare, la difficoltà del governare una società complessa come la nostra e quindi la necessità di scontentare alcuni per il bene comune e quindi si va facendo debito pubblico, dando risposte facili a questioni difficili eccetera eccetera. Quindi il banco di prova dei 5 Stelle è proprio su queste questioni che il governo si appresta ad affrontare all'Italia, ILVA, ammortizzatori sociali, riforma della giustizia, riforma del fisco. È su questo che noi capiremo se sapranno veramente scrollarsi di dosso questa impronta populista come stanno cercando d'altra parte anche però nel centro-destra perché anche Salvini sta cercando di fare con tutte le sue contraddizioni. Le contraddizioni di Salvini stanno dentro se stesso perché fa un incontro con Draghi e poi subito dopo va su Twitter a chiedere al popolo che ne pensa. Dentro i 5 Stelle ogni giorno c'è un ostacolo sul cammino di Conte perché è la Raggi e adesso forse l'Appendino è fico che viene contestato terribilmente a Napoli. Voglio solo chiedere al professor Cacciari da 0 a 10 si fida di più diciamo delle conversioni dei 5 Stelle o della Lega di Salvini e di Salvini? La conversione tra virgolette di 5 Stelle è una strada obbligata. Non avevano alternative se volevano sopravvivere a tentare la strada Conte. Ma non è vero anche per Salvini? Ma anche Salvini ha una strada obbligata perché Salvini aveva capito che continuando come prima non sarebbe mai stato riconosciuto come dire di fatto un suo governo in sede europea e se non hai un consenso in Europa oggi non governi in nessun paese, neanche la Germania si governa senza avere una forte intesa, un forte ancoraggio europeo. Quindi è chiaro che sono due conversioni obbligate. Quanto autentiche nell'anima, e questo è anche un po' il problema che si poneva prima Cacciari, quanto ci credono, quanto sono autentiche queste conversioni, quanto queste prospettive possono dare fiducia, quanto invece sono soltanto degli stati di necessità, e questo se lo si potrà vedere. Lo vedremo, lo vedremo, intanto ci sono tanti banchi di prova che li attendono. Le amministrative, ma le amministrative sono una diversa dall'altra. Sì, ma non solo, anche le riforme. Non è, non solo. Vi devo far vedere il punto di Paolo Pagliaro perché abbiamo detto che il recovery plan col via libera sta crescendo l'attenzione verso fenomeni di corruzione. Guardate. Non esistono dati scientifici sul fenomeno della corruzione, che dunque viene misurata con il criterio della percezione. E in base a questo criterio, da quando nel 2014 è stata istituita l'autorità nazionale anticorruzione, l'Italia è migliorata di 17 posizioni nelle classifiche di Transparency International. Da dieci mesi alla guida dell'ANAC c'è Giuseppe Busia, che oggi ha presentato con queste buone credenziali la sua prima relazione annuale. La questione per cui di ANAC si discute tutti i giorni, sui giornali e nei convegni, è insieme semplice e complicatissima. Come si possono conciliare i controlli di legalità con l'efficienza, la cultura delle regole e quella del fare? Temi cruciali nel momento in cui il governo di un paese con un forte insediamento mafioso si accinge a spendere 209 miliardi di fondi europei e ha bisogno di farlo in fretta. Busia ha elencato una serie di provvedimenti che all'insegna della digitalizzazione ANAC ha preso o sta per prendere per snellire procedure e controlli. Nascerà il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che consentirà all'impresa di non dover più fornire carte e documenti già utilizzati per un'altra gara. Ci sarà una piattaforma unica della trasparenza, basata sull'interconnessione delle diverse banche dati pubbliche. Dice il capo dell'anticorruzione che il piano di ripresa e resilienza realizzerà una straordinaria redistribuzione di potere economico privato destinato a durare negli anni. Dunque occorre evitare che procedure di affidamento scarsamente concorrenziali finiscano per premiare solo le imprese direttamente conosciute dall'amministrazione appaltante o si concentrino nelle mani di pochi operatori più forti e strutturati, a discapito di altri ugualmente meritevoli. Anche a salvaguardare questi elementari principi di democrazia economica servono i vituperati paletti dell'ANAC. E siamo in chiusura, grazie professor Cacciari, grazie Andrea Scanzi, grazie Mariolina Sattanino, grazie spettatori e vi lascio al film di Mario Monicelli e quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani a otto e mezzo. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.